Presidente Quattro Ciocchi 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 Volevo ribadire ancora che siamo in attesa di risposte alle nostre interrogazioni già in diversi mesi e quindi risolletichiamo a questo Consiglio di zona le attese e risposte delle nostre interrogazioni su delibere anche le approvate in questo Consiglio. Al Presidente Simson in questo momento ha detto che prima ci ha riferito in ordinanze e alcune risposte che ha avuto il settore lo preghiamo di inviare la nostra conoscenza di Consiglio di zona così per prenderne poi visione in maniera più globale e vorrei che si mettesse per fare perché questa è una richiesta che non creiamo perché ormai non ci termine quasi più ma a parte i volantini pubblicitari, associativi, feste, associazioni che comunque riteniamo valide ma è importante anche l'attività politica, le risposte, le interrogazioni, tutto quello che è il nostro lavoro. Io ho preso questa interrogazione e ho preso spunto leggendo da internet l'informazione relativa alle 264 nuove telecamere. Il 19, questo pubblicato il 17 maggio 2013 e leggendo appunto questa comunicazione sono rimasto un po' così perché visto che queste richieste sono state spesso bocciate, diciamo quasi sempre bocciate questo Consiglio in più come diceva il Consiglio che mi ha preceduto in ordine del tempo la condivisione è talmente così completa che non sappiamo neppure dove sono state collocate da parte se non per quelle località dove in questa immagine dove c'è la suddivisione delle zone apparevano quelle prime 5, 6, 7 località. Quindi questo è il punto della condivisione che è stata vissuta per questo Consiglio di Zona, credo solo con la maggioranza edifici chiusi però questo non è fare politica, a meno dite come sta e non dite però non andate a dire che c'è stata la condivisione. Tu che non è comunque molto favorevole a questo tipo di situazione. La vado a leggere? Premesso che il dato 17 maggio-1913 abbiamo appreso tramite il testito del comune di Lano, l'individente, installazioni di 39 trecane dislocate in più punti della zona 9 considerato che il gruppo Leganotte, in differenza della Tavania, ha più volte sollecitato l'installazione di video dispositivi di sorveglianza in alcuni punti della zona 9 e che via le relative pozioni sono state più volte bocciate dalla maggioranza che governa il Consiglio di zona 9. Visto che, prendendo visione della comunicazione pubblicata sul sito del comune di Milano, parrebbe che il progetto relativo all'installazione di telecane di sicurezza sia scapulita da una condivisione con tutti i Consigli di zona, ha curato che dalla comunicazione presente sul sito del comune di Milano non siamo in grado di conoscere luoghi nei quali saranno installate le telecane di sicurezza. Si chiede al Presidente di zona 9, all'assessore della sicurezza comune di Milano, settore competente comune di Milano, di informare i Consigli di zona in merito ai luoghi nei quali saranno installate le nuove telecane di sicurezza e quali saranno i tempi della loro attivazione. Al Presidente del Consiglio si richiede il cortesemente risposta in forma scritta al quesito nei tempi di nota, norma di legge, norma di regolamento. L'altra interrogazione riguarda invece, sempre leggendo sui quotidiani e da frasi virgolettate dell'assessore Maiorino, facciamo un'interrogazione dove chiediamo Luzi e chiariti il testo all'utilizzo della caserma militare di Goferrona Medi. L'altra legge, l'interversione urgente è l'utilizzo della caserma militare di Goferrona Medi. Premesso che la caserma Goferrona Medi è una struttura militare dismessa, ubicata via su Zani, quindi presente sul territorio di zona 9, considerato che l'assessore delle politiche sociali del Comune di Milano ha dichiarato di un soltanto quotidiano milanese, frase che di seguito riposto. Abbiamo chiesto, dice l'assessore Maiorino, al Ministro della Difesa di poter utilizzare i casermi di smesse per realizzare i centri di prima emergenza sociali per i nomali. Visto che l'intenzione di questa giunta comunale sembrerebbe quella di utilizzare i casermi militari di smesse anche quelli presenti nel territorio di zona 9 come centri di prima emergenza sociale per i nomali, appunto che la caserma militare di Goferrona Medi attualmente è dismessa, è un'area molto vasta, ricca di vegetazione, ubicata in possibilità di numerosi stati di civili, dove vivono numerosissimi residenti che sono molto preoccupati per la loro sicurezza. Si chiede al Presidente di zona 9, al sindaco, l'assessore della sicurezza del Comune di Milano, di informare i consiglieri di zona 9 e i cittadini riguardo le intenzioni, peraltro già pubblicamente dichiarate dall'assessore Magliorino, in merito all'eventuale utilizzo della caserma di Milano come centro di prima emergenza sociale per i nomali. Al Presidente del Consiglio di zona 9 si richiede, cortesemente, il posto di risposta in forma scritta. Vado a leggere la mozione, sollecitato da numerosi cittadini che abitano il quartiere della Bicocca, vado a leggere questa mozione, premesso che la linea di trasporto TN42 della tratta Bicocca centrale risulta essere una linea di trasporto pubblico, indispensabile agli abitanti che ne siedono il quartiere di Bicocca. Considerato che, conseguentemente, la messa in funzione alla nuova linea metropolitana di 5, denominata Nulla, l'azienda TN ha ridotto vistosamente le corse delle vitture, generando più gravi di sardia all'intenso. Appurato che, l'azienda TN, con la messa in funzione alla nuova M5, ha migliorato e velocizzato il servizio di trasporto pubblico della tratta Zara-Testi, condizionando però negativamente, con l'istruzione di nuovi orari e di nuovi percorsi, il servizio del nome 42, che ha raddoppiato i tempi di attesa alle fermate, generando quindi agli utenti, gravi disagi agli utenti che da sempre utilizzano questa linea. Ravvisato che tale situazione ha causato un peggioramento del servizio ai fruttori della linea 42, che la utilizzano quotidianamente, ravvisato non perché, scusate, a fronte della penalizzazione causata dalla soppressione di numerose corse della linea 42, l'azienda TN ha comunque ritenuto necessario mantenere il servizio di trasporto notturno del venerdì e del sabato in questa prassa. Chiede al Presidente di Zona 9, all'assessore della mobilità del Comune di Milano, all'azienda TN, di valutare la necessità di incrementare la frequenza delle corse delle vetture da linea 42, almeno nelle ore di punta, ripristinando gli orari precedenti lì con lì con lì. Questa mozione è appunto di moltissime segnalazioni ricevute dai cittadini. Io mi auguro e spero che venga poi approvata questo Consiglio, perché questo servizio ha veramente penalizzato gli abitanti in questa zona. Lo dico perché non volevo presentarla, ma sono stato fermato durante le mattine, durante il passo per un ufficio, da molti, molti cittadini che mi hanno veramente pregato di portare questa loro istanza in Consiglio di Zona 9. visto anche il fatto che lasciando due notti, due notti, intere notti, la fermata fa pensare, come dire, che se uno non ha pane, come fa a mangiare. Se non c'è un servizio che è dato nelle orarie in cui le persone lavorano per questioni di mancanza di risorse, com'è possibile offrire delle fermate, delle giornate notturne, è un servizio che altrettanto chiaramente io non è che rifiuto, ma secondo me è meglio che la gente possa andare a lavorare in maniera civile, con ore civili e con un servizio sufficiente, invece che magari lasciare girare per tutta la notte, il vero e il sabato, delle vetture che consumano magari, e magari non fanno un servizio così prioritario. Grazie. 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 Capogruppo Perno. Sì, grazie. Rifacendomi alla richiesta presentata settimana scorsa e alla richiesta fatta questa serata dal consigliere Agnusvelli, vorrei chiedere al Presidente Sini, una volta che avrà adeguata mezza di rifiuti e se lo dovrei ricomincare per 15 giorni, di poter organizzare la commissione che vi chiedeva il consiglio di interesse avete sul territorio. Dato che abbiamo realizzato una serie di problematiche specifiche sul quartiere Comasina, che potrebbero essere meglio analizzate dalla vostra presenza sul territorio, e mi riferisco sia alle problematiche che avevo posto sull'incrocio Santorio del Sacro Cuore e Sculapio-Meabloni, e il posizionamento dell'Estriscia Bruno sulla via Santorio del Sacro Cuore, e il posizionamento o la revisione dei pasteggi lungo tutta la via Ipposita. E in aggiunta, ringraziandola per la veloce risposta alla mia altra interrogazione su cosa intendesse fare il Comune per porre rimedio al problema della chiusura del parcheggio per il provvedorci a Comasina per l'organizzazione appunto della nuova struttura multipiano. Sarebbe anche l'importante, magari con presenza di potenze esplosionali, di vigilanza urbana, essere direttamente nuova anche noi per valutare l'affettabilità delle proposte che lei accennava prima, anche perché su alcune vedo grosse difficoltà. Per primo parte i terrenzi sono indicati, non sono sui territori come di Milano, ma sono già di pertenenza di Comune di Cornano. Ci sono degli ostacoli presenti, perché c'è, se non sbaglio, una linea di metandotto che passa sotto uno svincolo autostradale, c'è una linea anche di alta tensione sotterrata che, oltre alle vie di uscita di sicurezza della metropolitana, rendono poco usufruibile con l'area che era in prima città. Per questo chiederei a lei di organizzare, invece che solamente mettere all'ordine del giorno, come l'ho chiesto la volta scorsa, organizzare la propria commissione peritorio sugli argomenti che io, consigliere Islea, abbiamo portato, e poterle analizzare direttamente dove il problema esiste. Poi vorrei fare solo un breve accenno al Presidente Ducci. Spero che nella commissione che si andrà a fare a bere sul campo di via Corazina, mi verranno chiedi a tutti i gruppi sulla procedura che è stata effettuata per le eventuali assegnazioni sottosegnazionali. Gli assalenti, l'ex campo della AS Comasino. Senti gente, io ho presentato un'interlocazione, tempo addietro, ma già da tempo, della quale non ho ricevuto un'unica stazione settimana scorsa improvvisamente, con la quale si può dichiaro che, non essendo andate a confine in due mani, tra cui l'ultimo, nonostante delle proposte, sono state ricettate, delle delle motivazioni che, potrei, lo so, pregredire la sua risposta, la dalle cercare io... La risposta viene a essere a me. No, no, lo sto dicendo qui, ho detto che è pervenuta successivamente l'interrogazione che avevamo fatto lei, comunicazione che a seguito delle due mani è andati, ahimè, non a confine, di più l'ultimo, con presenza di realtà di offerte che sono state ricettate. Magari sarebbe utile da parte sua, se cortesemente, in occasione della commissione sul campo, far avere anche la determinazione per la quale sono state ricettate le offerte che hanno state presentate dagli altri due attori partecipanti alla gara, per cui l'ultimo sono state ricettate, e avere informazioni specifiche che da parte sua si sembra un ufficiale rispetto alle ricerche che potrei fare io su internet, sull'associazione che ha presentato la proposta che nella trattativa diretta il Comune ha deciso di affidare in maniera che io ritengo assolutamente legittima nella procedura, però assolutamente poco trasparente per quello che riguarda i rapporti con questo Consiglio di Zona. Grazie. Grazie. Presidente Lucci. Grazie. Ma intanto domani ci sarà la commissione, per cui ci riserveremo domani sera tutta una serie di informazioni e precisazioni. Tra l'altro ci saranno anche, oltre a quelli che hanno preso in mano il campo sportivo, ci saranno anche i tecnici dell'amministrazione comunale, quindi tra l'altro dovrebbe esserci proprio la persona che ha seguito anche tutto l'Inter, per cui anche lì possono arrivare delle risposte precise. Spero che vi sia arrivata, ma sono sicuro che vi è arrivata la richiesta di parere a tutti i consiglieri, quindi è completo di quello. Domani ci saranno anche due piantini a colore per poter esporre bene il progetto da parte dell'associazione, quindi credo che sarà una buona commissione dove ci sono tutti gli elementi. Ci sono già delle proposte in atto, ma domani sera discuteremo di tutta una serie di cose. Mi dispiace che abbiamo dovuto apprendere dai giornali, ma purtroppo sta diventando un'abitudine, ma costante da questa amministrazione che per quanto riguarda la verde estate l'amministrazione centrale abbia individuato come unico punto della zona 9 Villa Vita dove svolgere una iniziativa per quanto riguarda la verde estate nell'ambito dell'organizzazione che si è proposta dall'assessorato stesso. Quindi dovrebbe esserci questa iniziativa, a me dispiace che non siamo stati coinvolti neanche su, diciamo, la location per usare il termine e quindi, va bene, è così e ce ne facciamo una ragione anche su questo. Invece volevo presentare una mozione urgente dove chiederò poi la ferma ai consiglieri, tutti, maggioranza opposizione, in merito a una iniziativa iniziativa che avevo già citato in un intervento qualche settimana fa nella denuncia anche del capogruppo Clivio. In quell'occasione facevo una dichiarazione in merito alla sfilata, parata che c'è stata a Milano che è la redditoria di Ramelli dove c'era anche possibilità sociali e in quell'intervento citiamo la questione di un'iniziativa che si terrebbe in zona 9 in questi giorni, inizialmente dovrebbe essere il 9 giugno, poi è stato rendato il 23 giugno, diamo un calcio alla pedofilia il tipo dell'iniziativa. Il problema è che all'interno di questa manifestazione è presente nell'organizzazione e nella partecipazione anche un'associazione neo-nazista, fascista, che si richiama alla tipologia, ai simboli e a tutta una serie di chiami storici del nazismo. Quindi a fronte di questo presentiamo una mozione urgente che è appunto come dicevo prima chiederemo le firme. Oggetto presenza dell'associazione Realtà e l'Azione quale organizzazione dell'iniziativa in difesa dei nostri bambini diamo un calcio alla pedofilia con i patricini della provincia di Milano negli spazi corrispondivi del Comune di Milano dati in concessione all'associazione sportiva dilettantistica Sporting e tre platini premesso che il prografo da Ex-Cobre come dice la regia di Capazza premesso che Milano citando l'Italia adoro la resistenza in questi ultimi settimane è stato in cerchio di manifestazioni organizzate da gruppi non fascisti per estrema destra milanesi che costituiscono attraverso l'evidente apologia del fascismo una palese di orazione 10 premesso che l'ultima è quella del 29 aprile per la quale il Consiglio di Zona 3 ha votato una lezione in cui oltre ad esprimere la ferma condanna per l'esecuzione di simboli nefascisti chiedeva di vietare e che il sindaco Giuliano Pisapia ha definito una manifestazione nazifascista che una città come Milano non può subire per il prossimo anno accanto al necessario ricordo di una vittima di una tragedia non ci deve essere una internalizzazione dell'episodio triste per inneggiare il fascismo o e il nazismo considerato che domenica 23 giugno 2013 si terrà presso il centro sportivo Sporting Tre Platini in via Giuditta Pasta un'iniziativa da titolo in difesa dei nostri bambini di ammuntaccio la pedofilia con le patrocine della provincia di Milano considerato che l'iniziativa vede tra i partner anche la sedicente associazione culturale realtà e azioni considerato che sul sito di questa associazione culturale è postato un video di presentazioni in cui compaiono immagini di Leon Dragher De Grel indivisa da SS persona nota per le sue tesi revisioniste sulla seconda guerra mondiale e sostenitore dell'antisemitismo economico oggi De Grel è referente per molti movimenti dell'estrema destra europea non nazista considerato che il centro sportivo è di proprietà del Comune di Milano grado in concessione di un'associazione sportiva italiana successivamente l'associazione sportiva di rettantistica Sporting il consiglio di zona 9 pur condividendo la lotta alla pedofilia non condivide la scelta della società sportiva di concedere l'impianto ad un'associazione che tra i partner ha un'associazione che esalta il nazismo e i suoi ideologi proprio perché tale e ne fa suo punto di riferimento di cultura impegna la Presidente del Consiglio di zona 9 ad intervenire presso il Sindaco l'assessore allo sport e la giunta affinché il concessionario revoti la disponibilità dell'utilizzo dell'impianto sportivo sito in viaggio di vita pasta ad un'associazione non nazista impegna la Presidente del Consiglio di zona 9 a chiedere alla giunta comunale di attivarsi perché la giunta provinciale chiarisca le motivazioni che l'hanno portata alla decisione assunta di patrocinare l'iniziativa e di sapere se vi sono state valutazioni e nel caso quali sono state in merito alle scelte di partner dell'iniziativa stessa a chiedere all'associazione proponente dell'evento di escludere l'associazione di realtà e azione dall'organizzazione e gestione dell'iniziativa e di comunicare la decisione all'assessorato e al Consiglio di zona 9 impegna la Presidente del Consiglio di zona 9 che non ricevendo risposta positiva sull'esclusione di realtà e azione dall'evento la manifestazione venga sospesa di chiedere all'assessorato allo sport e all'assessorato alla sicurezza e per le zone sociali e per il sia locale di inviare i suoi rappresentanti al centro spettivo per controllare il fondo della svolta e verificare che qualcuno non voglia trasformarla in una manifestazione durante la quale si esalteranno simboli gesti e contenuti neorazzisti impegna la Presidente del Consiglio di zona 9 a chiedere all'assessorato allo sport la loro e non rischia una netta presa di distanza da parte della concessionaria in merito al coinvolgimento dell'Associazione Realtà e Azione di verificare la possibilità compatibilmente con il contratto di concessione tra concessionaria e comuni di Milano di prendere seri ed urgenti provvedimenti nei confronti del concessionario stesso per vietare la manifestazione tra l'altro è stata anche inviata da parte degli uffici dell'assessorato allo sport una lettera in quanto questi avevano chiesto precedentemente il patrocino del comune di Milano è stata inviata una lettera al legale rappresentante dell'associazione che tra l'altro si trova in Emilia non più a Milano in Emilia non più a Milano e dove si comunica che il comune di Milano proprio per la presenza di questa associazione neonazista non concederà il patrocino gratuito quindi un'ulteriore informazione poi grazie grazie mi completano alcune brevi comunicazioni per quanto riguarda la commissione educazione nella giornata di domani pomeriggio ci sarà in assessorato un incontro al quale parteciperà il presidente del consiglio di istituto Locchi e la preside o una delegata della preside e io per parlare delle decisioni in merito al futuro della scuola media Cassinis infatti il tavolo diciamo di analisi delle varie di situazioni è giunto il termine e quindi ora ci sarà da scusate mi secca suonare il campanello mentre parlo io però vi prego cortesemente quindi ci sarà questo incontro nel quale verranno comunicate decisioni credo ormai definitive riguardanti la scuola media Cassinis di Germana per quanto mi compete quindi come commissione di dotazione per il momento non ho altre comunicazioni da dare mettiamo quindi in discussione il primo punto dell'ordine no prima devo nominare gli scrutatori consigliere medonato consigliere medonato consigliere medonato medonato gli scrutatori sono ferrando medonato mettiamo in discussione il primo punto dell'ordine del giorno concessione di patrocina per l'associazione culturale dell'EP per la realizzazione della manifestazione denominata Caffè Senesi grazie presidente onorevole consiglio l'associazione del DEP ha presentato richieste è stato discusso in office di conduta commissione di condizioni per la commissione di comunicazione culturale che ha presentato il giorno 28 5 2013 hanno preso un esame che è titolato Caffè o Tè all'interno del progetto di comunicazione sociale urbale si terrà mandato da definirsi in un giorno di sabato nel mese di settembre e poi possiamo rispondere si inquadra in un gruppo di un massimo sul territorio di un tipo del cibo con un strumento di questione sociale e dove vanno il caffè e il tè e le tradizioni locali attiva la preparazione diventano protagoniste iniziativa di trattenimento e conoscenza di cultura di preparazione di esperimenti tradizionali di ipte e collenze di convività sono occasioni di scambio sociale e di riservi comunitieri qualizzata la valenza sociale e naturale del mese estimo considerata la serietà e la continuità dei lavori sul territorio e parte delle associazioni colori per condizioni fridute approvano la maggioranza concessione di partenze della condizione nonché il cliente di alcuno degli spazi per considerarsi con il settore zona 9 secondo le disponibilità la pubblicità sarà carica di situazioni comunali la seconda richiesta del luardo di rischi la commissione di gestione di cultura di gestione di gestione di gestione di gestione 5 hanno avutato proposta del istituto nazionale della storia della comunità di gestione di Italia per il progetto denominato stappato di gestione di potere il progetto è rivolto suprimamente alle scuole superiori della donna con qualche calcura possibile verso le classi terza di scuole secondari di filonatura in quale macriamo le esperte di gioco ragazzo si può possibile relative a pregio della resistenza che Grazie. Grazie. Scusate, c'è un raffuso perché l'incontro sarà nell'unità 14, c'è un raffuso che vi segnalo, l'incontro nella prigione di marina, l'incontro nella buona 14. Grazie. 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 Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 27, favorevole 24, controllo 0, astenuti 3, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione. Grazie. Presenti 24, favorevole 24, controllo 0, astenuti 0, approvato. Passiamo ora. Comunico che... Passiamo ora al secondo punto. Concessione di patrocinio gratuito alla società cooperativa Onus Solidare. do la parola al Presidente. Grazie Presidente, leggo la relazione che è benissima. Bravo. Allora lo consiglio alla Commissione Politico Sociale e Salute, riunitarsi il giorno 23 maggio 2010, ha preso in esame la proposta della cooperativa Sociale Solidare Onus, che consiste nella richiesta di patrocinio e condizioni di un locale per la presentazione della cittadinanza di Solidare. Solidare, cooperativa Sociale Onus, che agisce nell'attività di aiuto psicologico di amore sul disagio e sui temi quali di gestione familiare, donne in crisi, fumo, aiuto alle famiglie con le recente difficili, eccetera. A tal proposito, la Commissione propone, a maggioranza, di concedere il patrocinio gratuito e la sala di via in Polizia, secondo disponibilità della concordazione con le sezioni di zona 9, per l'iniziativa che si incontra nel 21 settembre, giorno da concordare sempre con i sezioni di zona 9. L'Associazione si fa la carica della pubblicizzazione dell'evento. Voglio passare adesso, non vedo il consiglio di approvare. Inizio ciò sul prossimo. Grazie. Non ci sono rispetti a parlare, quindi mettiamo in votazione. Chiaro, chiuso la votazione. Presenti 29, favorevoli 29, contrario 0, astelluti 0, approvato. Mettiamo in discussione di mediate eseguibilità. Votazione. Stiamo votando in mediate eseguibilità. Dichiaro, chiuso la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrario 0, astelluti 0, approvato. Passiamo. 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 Grazie. Grazie. Presidente della Commissione Ambiente. La Commissione Ambiente è venuta sin data 21 maggio, preso in esame la richiesta di parere pervenuta dal settore verde al redurbano, in data 14 maggio e in atti il protocollo generale 327664, in merito ad alcune modifiche di integrazioni da portare all'attuale regolamento del verde. Esaminata. Esaminata la documentazione citata, la Commissione è espressa alla maggioranza da avere favorevole a quanto proposto, ovvero alle seguenti nuove disposizioni, quindi l'introduzione di nuove disposizioni. Divieto di sfumare all'interno dell'area di gioco in base all'ordinanza sindacale del 20 dicembre 2012, che mi ricordo aveva fatto un anno la scena di camuta nel dicembre 2013. In questo modo diventa, invece, definitiva l'obbligo di raccordare le dedizioni canine anche all'interno delle aree cani, l'introduzione di un risarcimento del danno al carico di chi causa l'abbattimento di altri pubblici per ravi danni, quale compensazione dalla perdita subita, oltre alla sanzione amministrativa prevista. E due, la riformulazione dell'articolo 29, relativo alle sanzioni, dal momento che l'attuale testo fa riferimento a disposizioni ormai largamente superate. Viene per tanto indicato unicamente a riferimento all'articolo 7bis del decreto legislativo 267 del 2000, in base all'articolo 16 della legge numero 3 del 169.3. Tale scelta rimanda ad una successiva delibera di giunta comunale, la revisione e l'approvazione degli importi di pagamento in misura ridotta delle violazioni singoli e articoli. Infine, la Commissione ha probabilmente preso atto dell'intenzione di esaminare prossimamente l'intero regolamento a fronte delle attuali esigenze di disciplina e tutela dell'uso del verde pubblico. Grazie. Grazie. Mettiamo in votazione. Dichiaro a chiusare la notazione. Presenti 29, favorevole 28, contrario 0, stiamo chi 1, approvato. Passiamo al punto 4. Parerre relativo al cambio di destinazione peggio al piano di seguita dei corsi per la sede via locale accessorio della residenza per l'immobile di via Lecontina 8. Dò la parola al Presidente Simi. Grazie. La Commissione territoriale, a seguito della riunione, è venuta a sindacca 3 giugno 2013, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere il parere negativo in merito al parere relativo al cambio di destinazione d'uso a piano semi-interrato, da deposito senza permanenza di persone a locale accessorio della residenza per l'immobile di via Lecontina 8. Trattasi di un intervento di un cambio di destinazione d'uso a piano semi-interrato, da deposito senza permanenza di persone a locale accessorio della residenza in via Lecontina 8. Le opere consistono nella demolizione di un tabalato di separazione, ma non scala, per consentire il collegamento corretto con lo spazio residenziale sottostante. Si esprime il parere negativo in quanto un intervento trasforma uno spazio semi-interrato in uno caldo residenziale e mancano le durazioni minime della roba, ad esempio la cucina. Voglio pertanto amorevole consiglio approvare quanto vi possano la misura. Grazie Presidente. Intanto vi abbrato che la mozione del Presidente Ducci ha raggiunto il numero di firme richieste che vi aveva discusso questa sera ancora. Punto 5. Parere relativo all'unicamento di sostituzione di inizio ai sensi dell'articolo 5 per l'immobile di via Fara 3. Grazie. 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 in sostituzione di vizio e sesso dell'articolo 5 della legge di un anno numero 4 2012, piano casa, per l'immobile di via FAN3, che consiste nel rifacimento dell'edificio contestare che viene riqualificato, demolizione del corpo interno al profilo e comparziale di costruzione e organizzazione di recortizia pertinenziale, formazione nel sotticuono dei passaggi pertinenziali. La Commissione esprime parere favorevole in quanto il progetto si inserisce correttamente nel contesto dal punto di vista societale. Voglio pertanto che adesso non avevo il consiglio a trovare quante proposte dalla Commissione. Grazie, mettiamo la votazione. Chiaro, chiusa la votazione. Presenti 29, favorevole 26, contraria 0, astenuti 3, approvato. Mettiamo ora in discussione il punto numero 6 relativo ad un ampliamento dell'autostedria per l'opera di via FAN3, dalla parola del Presidente Sini. Allora, relazioni. La Commissione territoriale, a seguito dell'Unione, tenuta sin data 3 giugno del 2013. Esaminando l'utilizzazione tecnica, approvata maggioranza la proposta di esprimere il parere favorevole in merito con l'ampliamento dell'autometria, in virtù della legge regionale 4 del 2012, con realizzazione di nuovo piano ad uso residenziale per rimovere di via Scassalini 13. Trattasi di un intervento di ampliamento dell'autometria in virtù della legge regionale numero 4 del 2012, con realizzazione di nuovo piano ad uso residenziale per rimovere di via Scassalini 3 luci, sfruttando la possibilità della legge in coraggio del 2012, che consente l'imprendimento di un intervento di 10%, qualora il progetto prevede la copertura del 30% del servizio energetico per l'acqua calda sanitaria e riscaldamento dell'affrescamento. La Commissione esprime i parere favorevoli, in quanto il progetto si inserisce correttamente nel contesto da un punto di vista socioambientale. Voglio appartare il progetto onorevole consiglio, approvare quanto proposto dalla Commissione. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 29, favorevoli 25, contrari 3, astenuti 1, approvato. Mettiamo la votazione. Punto 7, iscrizione dell'Associazione ANPOL, Associazione Nazionale Polizia Locale, all'albo sanale delle associazioni. Visti eccetera, preso alto, visto il parere favorevole del direttore del settore di zona 9, che esiste a delibera di scrivere al numero 195 dell'albo delle associazioni della zona 9, l'Associazione ANPOL, Associazione Nazionale Polizia Locale. Con tale provvedimento non con porta spesa. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 28, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto 8, nomine del rappresentante del Consiglio di zona 9, presso la rappresentanza cittadina dei Consigli di Unità Educativa, do la parola al Vice Presidente del Consiglio di Unità Educativa. di Unità Educativa, da ogni Consiglio di zona. La Commissione di Educazione, unita si data il 25 maggio 20, 28 maggio 2013, valuta che il rappresentante del Consiglio di zona all'interno della rappresentanza cittadina dei Consigli di Unità Educativa, deve avere un ruolo di coordinamento, deve essere informato sulle necessità e problemi di una singola comunità educativa nella zona. Considera quindi che alla Presidenza della Commissione di Educazione vengono compositati i prepari in tutte le Unità Educative e che in Commissione ogni rappresentante relaziona sulle regioni alle quali ha partecipato e sui problemi emersi. La Commissione, pertanto, decide a maggioranza di disegnare il quale rappresentante del Consiglio di zona 9, nella rappresentanza cittadina delle Unità Educative, il Presidente della Commissione di Educazione, consigliere Antonella Luconsolo. Voglio, pertanto, con questo onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione. Allora, il punto è questo, qui c'è necessità di individuare una figura che possa rappresentare il Consiglio di zona in questa rappresentanza e la Commissione, la mia discussione è individuata in una figura, diciamo, di vertice della Commissione Educazione, la persona indicata. Io stesso ho fatto nome della Presidente della Commissione, ritenendo la persona qui indicata e declinando ogni possibile offerta sul tuo conto, in quanto per ragioni di tempo e non solo, non sono in condizioni di garantire questo servizio. Grazie. Consigliere Pellegrini. Grazie. Io prometto che ero presente a questa Commissione e mi dispiace perché avrei potuto partecipare in maniera attiva, avevo un impegno troppo più importante. Io non ho nulla, personalmente, sulla figura della consigliera di zona del Consolo, è anche vero però che la consigliera di zona del Consolo, Presidente, Vicepresidente di zona 9, Presidente della Commissione Educazione, mi pare anche componente di altre aiutate nel commercio. Mi pare che con tutte queste numerose dubbi, quindi io credo che, penso, spero di dare anche un minimo di esempio anche ai cittadini e anche alla politica, perché si parla spesso della politica alta, che i nostri rappresentanti vogliono prendere più segni, più controlli, più impegni, senza nulla togliere che lo fa gratuitamente, per carità di Dio, su questo non ho nulla, però devo dire che un minimo di, non so, di varietà, voglio dire, è Presidente della Commissione Cultura, cosa farà? Andrà lei e lei, educazione, scusate, quando avrà bisogno dei verbali qua, dove dice il Consiglio, quindi, che la Presidenza della Commissione Educazione vengono convogliati i verbali di tutte le unità educative, sarà lei che si convoglia anche a lei, insomma ci sarà un po' una conflittualità anche, perché come fa una Presidente di Commissione Educazione e poi entrare dentro anche in queste unità, è un po' un conflitto secondo me. Dopodiché, per carità di Dio, ripeto, nulla contro la persona, però credo che si stia andando oltre alle cariche, al numero, un po' anche a rispetto, innanzitutto, di tutto quello che, perché noi qua siamo in 41, credo che anche nell'opposizione ci sia la possibilità di, no, solo voi potete fare i rappresentanti di questi, credo che in 41 Consiglio, comunque nella maggioranza ci fosse tanto una persona libera senza aver avuto un altro incarico, invece di sommarlo ai suoi numerosi incarichi Presidente, credo che si sia andati oltre, non lo so il motivo per cui si faccia questo, credo tanta passione sua, però magari prendere una carica e liberarsi dell'altra, per esempio Duke, per dirlo, o altre situazioni dove lei non può, secondo me, malamente far fronte a tutto e poi anche un minimo di etica. Ripeto, ritorno a dire, diciamo gli stessi noi a dire ai nostri politici che vogliono mettere i piedi dappertutto e poi ci siamo sempre noi in ogni occasione, quindi facciamo spazio anche ad altri consiglieri, come per esempio l'insegnante Mizzaro Giovanni, per dire, lo dico una perché un insegnante, o come la dottoressa Melone, o come Jacopo Rossi, come tanti consiglieri qua presenti che hanno una buona cultura, anche una dimestichezza, una sensibilità verso l'educazione nel mondo educativo. Quindi io voterò contro, non alla persona, ma al metodo con cui si è usato e si è stata utilizzata questa elezione. Ripeto, nulla a che vedere contro la Presidente della Commissione di Educazione, Vice Presidente del Consiglio di Zona e altro, perché credo che sia necessario dare un segnale forte ai cittadini, dove noi siamo altruisti e diamo spazio ad altri colleghi a rappresentare in questi ambienti anche figure terze, perché lei è una Presidente di Commissione di Educazione, non può avere tutto, non può essere in tutto, non è normale, credo. Dopodiché, abbiamo l'anno letta, avete deciso questo, credo che non sia una cosa normale. Grazie. Grazie. Consigliere Tergo, dal Capo Monpo Tergo. Grazie. Devo dire che anch'io faccio parte della Commissione di Educazione, ma lasciare una scelta che è stata fatta in essa, ha sollevato il nostro gruppo forti perplessità. Al di là della grande volontà di impegno della Presidente che è capace, dentro al conto, capace di dividersi in tante diverse attività, tanto speciale forse quasi più che nella volontà di contribuire al milione di svolgimento di tanti di questo Consiglio, ha sembrato quasi più una grande forma di protagonismo. Noi riteniamo la scelta assolutamente inadeguata anche perché non riteniamo la figura del Vice Presidente del Consiglio, Presidente della Commissione di Educazione sufficientemente visti i recenti accadimenti in Consiglio e al riporre di esso sufficientemente di garanzia per tutto il Consiglio. Non abbiamo visto neanche quelle capacità di essere rappresentative di tutto il Consiglio e dei suoi atteggiamenti e dei suoi comportamenti. In questa occasione ci inuteremo a esprimere forte perplessità su questo ruolo, focalizzandoci su questo. Vedremo nei prossimi consigli qual è l'altra situazione, magari intraprendere con i colleghi dell'opposizione. Ci sono figure presenti in questo Consiglio che riteniamo assolutamente più adeguate e territorie di questi incarichi. Il collega Pellegrini citava la consigliera Mizzau che ha dimostrato grandissime capacità di gestione della Commissione di Educazione che ancora oggi li piangiamo nello scorso mandato amministrativo rispetto purtroppo a quanto sta accadendo negli ultimi due anni. e potrebbe essere quella una figura alla quale fare riferimento. Come potrebbe essere un'altra figura di garanzia per noi di maggior sicurezza e rispetto anche il Consiglio della Terza, molto impegnato nella scuola direttamente nei consigli di istituto. Ripeto, mi auguro, adesso presenterò magari anche formalmente un emendamento con il quale chiediamo la modifica. Ritengo che la scelta che il nostro gruppo possa fare come alternativa rispetto alla proposta fatta da noi del Presidente del Consul sarebbe che nonostante, ripeto, apprezzando le grandi donne e le grandi capacità del Consigliere Mizzau, la nostra preferenza andrà anche per il Consigliere della Terza, la speranza che voglia accettare questa nostra proposizione di carico. Grazie. Consigliere di carico. Grazie Presidente. A me tocca far seguito a quelli che sono interventi che mi hanno preceduto. Ritengo effettivamente che la concentrazione di troppe cariche rivestite tutte da un determinato soggetto possano penalizzare l'attività che questo soggetto va a svolgere. Ma non perché non abbiamo fiducia nel lavoro che lei svolgerà o che comunque sia sta già svolgendo per quello che riguarda la commissione di mutazione e quindi le strutture su altri. Però effettivamente oggi dobbiamo fare i conti con il tempo. Il tempo è sempre meno e la somma dei propri tempi portano a risultati che spesso sono poco validi. Perché non si ha la capacità di approfondimento che invece una ripartizione di questi compiti da rete. Allora io ritengo in virtù di queste considerazioni che sono considerazioni di puro consenso, ritengo di, anch'io come consigliere Pellegrini non ero riuscito a partecipare alla seduta della commissione educazione che ha poi a maggioranza espresso nel suo nome, la nomina come rappresentante per il consiglio di zona 9. Quindi mi riservo di intervenire e proponendo delle soluzioni. Ti ritengo di proporre delle altre soluzioni degli altri consiglieri. Consiglieri i quali fanno riferimento, appena uno fa riferimento alla maggioranza, mentre le altre due proposte che ho identificato sono consiglieri che invece fanno parte dell'opposizione. Io ci trevo a fare una considerazione prima di fare i nomi. In tutti i livelli istituzionali che sono identificabili, si è sempre lavorato in un'ottica e in una tendenza di condivisione di quello che è il lavoro. In zona 9 questa tendenza diciamo che è vicino allo zero, nel senso che tutte le cariche e soprattutto tutto il tutto il lavoro spesso e volentieri viene svolto dalla maggioranza. Io non so dire se è giusto o se è sbagliato, però sicuramente è insolito, è quantomeno insolito. Non mi fa di mettere un giudizio, ripeto, non è negativo né positivo, ma mi piacerebbe riuscire a condividere quelle che sono le posizioni di lavoro. Quindi non stiamo parlando di incarichi retribuiti, ma tempo da spedere gratuitamente per quello che è l'organo che rappresentiamo. Quindi vado a concludere, presenterò tre avvenimenti i quali illustrano le differenti soluzioni che ho identificato. Mi auguro che oggi ci possa essere magari un momento di confronto su questa cosa. La prima persona che ho deciso di segnalare, in quanto facente parte della maggioranza, ma come gruppo politico è rimasto escluso da quelli che solitavano gli istituzionali, è il consigliere Simone Macario. Non lo sapeva, lo dico adesso, però... non lo sapeva, è una cosa che ho scritto adesso, però ritengo che, dato che... non si può, non si può, non si può... Prego contesamente di fare silenzio. Prego contesamente di fare silenzio, grazie. Dicevo, non è stata assolutamente una cosa comportata, infatti immagino abbia scoperto anche Simone questa cosa, però, dato che ritengo che ci voglia almeno... posso andare avanti? Cioè, se posso, se no, finisce qua, finisce qua, finiscono gli ammendamenti e però prendiamo la seduta qua, perché se non si può parlare non si fa. Allora, dicevo, ritengo fortemente penalizzante per ogni gruppo politico, non specifico il gruppo che si può parlare. Come compito, svolgere, penso che possa essere un riconoscimento, farlo meno politico, a un'istituzione che deve essere rappresentata all'interno di questo Consiglio, senza considerare il fatto che fa parte della nascolazione. Prendi il tempo di... Prendi il tempo di assurdo perché sto presentando degli ammendamenti, sto presentando degli ammendamenti, quindi ho dei miei interventi. Se non sapete il regolamento, ragazzi, lo puntate. Continuo, continuo, continuo. Prendi il tempo di assurdo. Prendi il tempo di assurdo. Grazie. Segue un altro nome, un altro consigliere che è sempre stato molto attivo su quelle che sono le realtà scolastiche. Si è molte volte battuto perché i problemi venissero risolti nei contesti in cui ha operato. L'altro nominativo che mi sento di proporre a questo Consiglio per questo compito è un consigliere che ha sempre operato nella massima televisione, che non sollevano mai un polemico alcuna, ma si è sempre contraddistinto per la sua trasparenza e saper condividere quelle che erano le differenti posizioni. E quindi mi va di segnalare del mio gruppo consigliare il consigliere Gramagli, che ad oggi non riveste nessun incarico politico all'interno disfunzionale. Mi sento di sponsorizzare per questo incarico di consigliere Gramagli. Presidente, io mi sento di sponsorizzare il consigliere Gramagli. Grazie. Presidente. In merito a questa, diciamo, alle elezioni del rappresentante del Consiglio di zona per la rappresentanza cittadina, ma in effetti io non mi sono espresso perché comunque, come sapete ho seguito cose simili, nel senso che nei due anni precedenti sono stato presidente di quello che era il Polo 23 e quindi ho partecipato a molte riunioni simili a quelle che sono adesso, saranno le assemblee cittadine, dei presidenti e dei rappresentanti dei consigli di zona. Riconosco anche che è un lavoro, diciamo, che richiede tanto sacrificio e un po' scoraggiato anche quasi dall'impotenza che deriva, insomma, dalle mille battaglie che portiamo avanti. Una sola osservazione. Presidente, prego, parlo in silenzio, per favore, scusi un momento, consigliere il Capo Comportezza, prego gentilmente a tutti quanti di fare silenzio perché così non si riesce a capire il contenuto degli interventi. Grazie, prego consigliere il Capo Comportezza. Allora, nella delibera, diciamo, il fatto che il presidente della Commissione educazione riceve i verbali non è che deve essere un vanto, anzi, forse tutti i commissari dovrebbero riceverli, per cui non vedo un punto a vantaggio. Quindi tutti i commissari della Commissione educazione devono avere le stesse informazioni e quindi, anzi, io la vedo come un'accezione negativa il fatto che queste informazioni arrivino al presidente, cioè sottolineare una delibera a un'accezione negativa. Perché io credo che la presidente della Commissione educazione, lo consolo, che è appunto vicepresidente del Consiglio di zona 9, condivida le informazioni. Per cui, nel senso che, quanto commissario, spero che non mi venga nascosta a niente. Per cui, non so, al massimo mi inviteri a togliere. Comunque, eventualmente, se, non so, io la proposta avanzata dal Capo Gruppo, pergo, la prenderei in considerazione, anche se sono di non avere nessuna speranza, però siccome non la considero una gara, è una mia dire sì, anche se vi costa, mi metto a disposizione. Grazie. Grazie, Capo Gruppo La Terza, do la parola al vicepresidente Esposito. Sì, grazie. Ascoltando l'interesse di tutti gli interventi e colleghi, mi sembra che si possono fare qualche rispuzione interessanti. Beh, tutti hanno riconosciuto comunque la qualità del lavoro della presidente Locosso, che quindi in discussione non è la figura, la persona, e questo è un tanto assolutamente rimanchevole. Si sono fatti sulle mani dei miei circa la disponibilità di tempo che la persona che vuole incaricare dovrà riservare a questo impegno. Non voglio, chiaramente, limitare la portata di questa nomina, ma non si tratta certo dell'impegno quotidiano, né settimanale, né tantomeno mensile. Effettivamente, essere nominati questa rappresentanza ha un ruolo, diciamo, distintivo, anche qui diciamo una valenza distintiva, e anche effettivamente di rappresentatività, perché qua si sta nominando un rappresentante del Consiglio di Zona. La presidente Locosso, su mia richiesta, le ha dato disponibilità ad assumersi questo incarico, e di questo evidentemente risponderà, e sono convinto che lei sarà assolutamente disponibile ad affrontare questo impegno. Dico anche che la proposta è in fine, neanche quello che è un intervento generale che hanno assunto anche le altre zone a Milano, cioè di riservare questa posizione, per una serie di motivi, che sono stati qui esplicitati, ma ci si potrebbe diluccare nientemente, e che sono stati esportati in commissione, vicino, e che era anche che le altre zone hanno fatto, e quindi mi sento in assoluta tranquillità di confermare quanto questa proposta è libera riporta. Grazie. Grazie. Solo una bellissima precisazione a consigliere Capogruppo La Terza, naturalmente sarà mia premura, cioè in ogni caso sarà mia premura, sia che venga, sia che venga nominata e sia no, sarà mia premura a fare i verbali a tutti i membri della commissione educazione. Mettiamo quindi in votazione il primo ammettamento, presentato dal Capogruppo Pergo, sostituire nel quarto comma della relazione da il Presidente Antonella Loconsolo con il Capogruppo Antonio La Terza e nel delibera Antonella Loconsolo con Antonio La Terza. Prendiamo la votazione. Alberto Alberto Chiaro chiusa la votazione Presenti in 30 Favorevole in 8 Contrari 22 Asteguti in 0 Restito si chiede di modificare la delibera come segue consigliere Simone Macaio non è specificato dove ma comunque immagino il processo sono da cercare verde sono da cercare verde metto in votazione l'allegato P presentato dal consigliere Pioani si chiede di modificare la delibera come segue consigliere Andrea Pellirini sempre senza specificare Dichiaro chiusa la votazione presenti 23 potete 0 votare 22 astenuti 1 respinto il vendamento del rappresentato dal consigliere Ferrario si chiede di modificare la delibera come segue consigliere Gabriele Gramanti dichiaro chiusa la votazione presenti 28 favorevole 4 contrate 24 astenuti 0 respinto mettiamo in votazione la delibera così come è presentata in origine questa è la delibera così come era Dichiaro chiusa la votazione presenti 28 favorevole 22 contrate 4 astenuti 2 approvato resta il punto se c'è la mozione mettiamo in discussione la mozione presentata dal partito di un'organizzazione di un'organizzazione e la relatazione di un'organizzazione di un'organizzazione di un'organizzazione da la parola di un'organizzazione e da il consigliere di un'organizzazione Grazie, credo che non essendo passato troppo tempo dalla presentazione e dalla lettura iniziale, possiamo darla per ora, grazie. 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 Grazie.